Sono 5 alloggi che la regione ha comprato qui a Colbordolo, importanti, in via Caravaggio, un bellissimo luogo che guarda il mare, sono 5 nuclei familiari che avevano estrema necessità di casa e quindi penso che sia una bella giornata. Abbiamo chiesto alla regione di acquistare altri 15 alloggi, 4 nella ex caserma dei carabinieri di proprietà del comune, sempre a Colbordolo e una decina di alloggi di un fallimento già in costruzione ma in completà dei assegnati che sono in località La Psella. Quindi è importante dare una risposta non solo del lavoro ma anche della casa e del benessere, bellissime case, come vedrete sono piccoli appartamenti ma molto carini, pensiamo che sia una bella giornata. Devo dire che quando si riescono a consegnare nuovi alloggi a persone che hanno bisogno è sempre una bellissima giornata. In questo caso siamo a Colbordolo dove come regione Marche qualche anno fa avevamo modificato il piano prevedendo una serie di investimenti soprattutto in quei territori dove c'era una lista di persone che avevano necessità. Oggi consegniamo 5 alloggi, un investimento di circa 600 mila euro ma devo dire la cosa di cui sono più orgoglioso oltre ovviamente a consegnare alloggi a persone che hanno bisogno è che questa scelta che abbiamo fatto di andare a non fare nuovi alloggi, cioè costruire nuove case ma andando ad acquistare come regione, come ERAP edifici già esistenti. Questa è stata una scelta importante perché da una parte ha consentito magari ad imprese che erano in difficoltà di poter vendere, di poter come dire evitare anche magari momenti particolari e difficili ma quindi di costruire il costruito, non consumo del suolo ma anche di riuscire a realizzare e consegnare gli alloggi in tempi sicuramente molto più rapidi. Diciamo che oggi sto vivendo due tipologie di inaugurazione, una che è l'essenza di questa cosa, la consegna di questi 5 alloggi popolari a 5 famiglie che ne avevano evidentemente necessità e che ne hanno avuto l'assegnazione, oltretutto sono case anche molto carine, adatte e quindi più che dignitose per viverci con serenità. La seconda inaugurazione, tra virgolette, questa è una battuta, è la mia prima uscita da assessore anche alla Residenza Popolare che ho da tre giorni come assessore appunto della Regione Marche, ma sono proprio voluto essere presente perché sto avendo momenti molto caotici quindi difficilmente anche riesco ovviamente a far fronte ad ogni evenienza ed esigenza in queste ore, mi devo ancora organizzare a livello regionale, però ho voluto invece esserci perché la consegna di alloggi popolari in questo momento vogliono dire molte cose, intanto vuol dire dare una risposta alle famiglie che ne hanno bisogno, intanto vuol dire porre l'attenzione proprio sui bisogni più impellenti delle persone, quelli della casa, della vita dignitosa, della ricerca di un lavoro, un domani, eccetera, insomma, tra le tante esigenze di questo momento. Tre, porre anche l'accento sull'attenzione di non ripiombare, speriamo di nuovo in una crisi profonda, per la quale insieme invece temo che siamo un po' predisposti, parlo di Italia, non parlo di questa regione o di questo comune. Purtroppo questo Covid che sta fortemente ritornando in auge ci potrebbe porre seri problemi anche dal punto di vista economico, sociale, e un po' non voglio essere adesso portatore di sfortune, ma potrebbe tornare un qualcosa di molto simile a quello che abbiamo vissuto qualche mese fa. E allora occorre ancora di più in questa situazione porre l'accento proprio sui bisogni primari e prioritari delle famiglie, quelle del lavoro, quella della casa, ovviamente quella della salute. Ecco, qui oggi ne identifichiamo uno in particolare, quello della casa. La mia presenza, ripeto, qui vuole essere proprio un segnale di attenzione verso chi ne ha più bisogno, verso chi è più debole, ma è anche fare un plauso chi, come i funzionari dell'ERAP, come gli amministratori locali e la stessa regione mare che ha fatto finora deve continuare anche in prospettiva, cioè l'attenzione proprio a questi temi tramite anche la consegna di case popolari, anche in prospettiva, anche in futuro, particolarmente come in questo caso costruendo sul costruito, quindi la ristrutturazione di tanti immobili che i comuni hanno inutilizzati, di quegli immobili che provengono anche da fallimenti di dette che sono rimaste delle brutture sul territorio, quindi come dire, danno una risposta alle famiglie ma anche alla ristrutturazione di immobili che sono in degrado e che sono delle brutture, particolarmente in borghi come qui oggi a Colbordolo, che spesso temono e vivono lo spopolamento e questo invece può essere un modo proprio per incrementarne anche la vivibilità e la permanenza dei nuclei familiari.